All right guys, it's a simple job. Just in and out. Nothing to it. It'll arrive, it'll arrive. You'll find out who will change your idea. Ready? You've been looking for it. Who is it? Now you have to do a game with me. Ready? What the hell is it? Biglietto. We have your return ticket. If you want to return home, here are your missions during Gamescom. What does this mean? What is it? Pronto? Vincenzo? Ciao Kobe. Stanno succedendo cose strane. Mi è arrivato un messaggio sotto la porta, gente che mi chiama. Cioè, dicono che il mio volo è stato cancellato. Mi controlli, per favore? Sì, qua risulta effettivamente che il tuo volo è stato cancellato. Come cancellato davvero? Io come faccio a tornare a casa? Scusami. Non lo so, non so come può essere successo. Tu prova a risolvere in qualche modo. Vabbè, vabbè, ok. Cercherò di risolvere, vediamo. Vabbè, grazie, grazie. Ciao. Ciao, eh, ciao. Vabbè, niente. Mi toccherà fare sto gioco strano. Andiamo alla Gamescom, andiamo alla Gamescom.